Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio far vedere le ultime uscite, soprattutto in campo Games Workshop, che sono arrivate nel nostro negozio sponsor Gioco Libreria Semola, che vi ricordo essere un negozio con cui collaboriamo da diversi mesi per tutta quanta la roba che concerne l'universo creato dalla Games Workshop. Quindi Warhammer, colori, pitture e anche Warhammer 40.000, quindi sia nella versione Age of Sigmar del Fantasy che nel 40.000 futuristico. Intanto ricordandovi un po' la pagina, vi faccio vedere anche il sito, ma tanto lo trovate come primo link in descrizione in tutti i video che appunto trattano di roba della Games Workshop. Trovate il numero di telefono in alto, tra l'altro il proprietario, uno dei due proprietari, si chiama Corrado ed è una persona gentilissima, se a volte anche dovete contattarlo per scrivergli una mail, fateli presente che arrivate dal mio canale, perché magari se anche un gioco non ce l'ha in lista, farà sempre il possibile per farvela avere. Tra le novità che sono uscite, e ricordo che essere una giocola libreria, quindi alla fin fine a tutto, a roba di cartoleria, roba di scuola, libri, romanzi, colori, board game e quant'altro. La cosa importante che vi voglio far vedere oggi è che le sono arrivati praticamente tutti i nuovi Battle Force usciti finora e già nella home, nell'index principale del sito potete vederli, però va bene, più comodamente andate qua su in cima e scrivete Battle Force. Date invio e praticamente escono tra l'altro, li ha inseriti ieri, ieri l'altro, vabbè rispetto a quando sto facendo questo video, ieri l'altro, già due sono andati via. È andato via quello dei guerrieri del caos, dell'age of sigmar e quello dei necron del 40.000. Comunque questi qui sono tutti i Battle Force che sono usciti. Che cosa sono i Battle Force? I Battle Force sono scatole di partenza per iniziare a collezionare eserciti di Warhammer 40.000 e per iniziare a fare vere e proprie partite, perché nella nuova edizione di Warhammer 40.000 c'è sempre il rimando al wargame e all'esercito, vero e proprio, da 1.000-2.000 punti e quello che è, però l'hanno voluto anche portare un pochino più una via di mezzo fra Kill Team e il vecchio Warhammer 4 edizione. In questa nuova edizione hanno cercato di riportarlo un pochino più una via di mezzo fra il Kill Team e il nuovo regolamento di Warhammer. Si cerca anche di buttare in campo un pochino meno forze o comunque di favorire anche le schermaglie. E ad esempio andando a vedere un Battle Force dell'Age of Sigmar, questo qui ad esempio, che è i discepoli di Zinch, tra l'altro è una delle idee del caos che mi piacciono maggiormente, vedete che è una scatola da 160€ con 35 miniature e andando a cliccare all'interno c'è tutto quello di cui avete bisogno per iniziare a giocare. Praticamente vedete un demone maggiore, penso che sia qualcosa del genere di Zinch, più tutte quante le truppe e l'unità. Non è un esercito completo, sicuramente per farvi un esercito da 1500-2000 punti, guardate un'altra scatola del genere, però per iniziare e per giocare per mesi e mesi e mesi basta, d'avanza. Questa ad esempio è la scatola del Zinch. La mia preferita, che infatti è andata a ruba, era questa qui, quella dei Necron. Ragazzi, guardate che roba c'è dentro, le nuove miniature dei Necron che non venivano fatte da una decina, quindicina d'anni. Guardate come sono spettacolari. Cioè, più belle di Terminator da cui si ispirano, perché praticamente la verità è quella. E anche un po' dai Borg, per il fatto dell'assimilazione in Star Trek e cose del genere. Per poi passare, mi stupisco che non l'abbiamo ancora venduta perché è un capolavoro, al Brood Swarm dei Tirannidi. Ragazzi, guardate, vabbè, Tirannidi classici. Poi ci sono i Gene Stealer, qua giù le truppe normali. E poi guardate questo. Cioè, guardate questo gigantesco che sembra un po' il Charger di Alien. Al Colonial Marines. E guardate che spettacolo, con la bocca che gli escan tipo tutti i tentacoli. Masse gelatinose, vabbè. Lasciamo stare, chi mi conosce lo sa quale è la mia passione per la GV, ma soprattutto per Warhammer 40.000. E poi ci sono altre scatole, tipo queste qui dovrebbero essere... Il Charadon non dovrebbero essere tipo i Nani? Sì, sono i Nani quelli tecnologici tipo Stimp, anche con le navette che volano, vedete, con delle specie di jetpack o qualcosa, insomma, che le aiutano a volare. Per l'Age of Sigmar, per poi passare a roba del 40.000. Quello che a me fondamentalmente interessa di più. E guardate qui, ragazzi. Cioè, guardate il nuovo Dreadnought del Chaos. Guardate qui. E questi, se non erro, dovrebbero essere gli Iron Warriors. Almeno per come sono fatti mi sembra proprio loro. Cioè, io questa scatola la voglio. Vi giuro, fra tutto quello che ho visto finora, ci sono anche gli Ultramarine, che sapete bene, che mi segue, che è il mio capitolo preferito. Però io voglio questa. Questa è la scatola fra tutto, che quando l'ho vista mi sono sentito male. Ragazzi, guardate come sono belli. Cioè, sono mostruosi. E poi ci sono anche tutti gli altri Battle Force, come vi ho detto. Sia dell'Age of Sigmar. Cioè, addirittura anche quello dell'Astra Militarium. Vabbè, la guardia imperiale, la vecchia guardia imperiale con i Cadiani all'interno. Bellissimi. Che non hanno ricevuto un grande restyle, eh. Sono quelli di una decina d'anni fa, se non di più. Perché erano già belli al tempo, quindi non c'era tanto motivo di rifarlo. E poi, guardate qua, gli Space Marine, gli Ultramarine. Guardate che spettacolo. Vabbè, Space Marine. Che poi ognuno li può fare del capitolo che vuole. Però io quando li vedo, per me sono gli Space, sono gli Ultramarine. E guardate che spettacolo. Con i Ravers, i carri armati e tutto quanto. Le truppe d'assalto. Vabbè. Il mio capitolo preferito, quindi non nascondo niente. Però dovessi fare un acquisto, ora come ora dovessi fare un acquisto, farei Chaos, primo. Secondo Necron. Anzi no, primo Necron. Secondo Chaos e terzo i Tirannidi. Ragazzi, sono bellissimi. E vi ricordo che quando andate a fare un acquisto, mettiamo caso io vado ad acquistare questa scatola qui del Chaos. Andate a fare Aggiungi al carrello. Vedete il prezzo è 155. E al momento dell'acquisto vi viene chiesto se avete un codice discount. Voi fate, procedi con il checkout. Mi raccomando, fatelo veloce perché sono, non so se c'è una scorta di uno o due scatole. Quindi finiscano anche abbastanza velocemente. E quando qui viene a chiedere, hai un codice sconto? Voi cliccate e scrivete Coridan. 7, tutto maiuscolo, aggiungi. E praticamente vi ha allevato 10,85 euro. Spendete 144, spedizione in 48 ore, che no che ve lo spedisce, che vi arriva a casa in 48 ore e non ci sono assolutamente spese postali. Non ci sono. Quindi questo è quello che andate a spendere e vi siete fatti il Battle Force con il mio codice sconto. Ragazzi, io, che dire, ancora una volta ringrazio la Gioccolibrilla Semola per, insomma, tutto quello che si è fatto e la collaborazione che va avanti ormai da quasi un anno. E ragazzi, affettatevi perché i Battle Force sono lì, ma potrebbe finirli nel giro di una decina di giorni. Quindi sono lì che vi aspettano e sono nuovi freschi della Games Workshop pronti per essere aperti, montati e giocati. Ciao ragazzi, alla prossima!